Energia potenziale gravitazionale della forza peso. Definizione. Un corpo che si trova a una certa quota è in grado di compiere lavoro quando scende. Un corpo di massa m sollevato ad una altezza h dal suolo possiede quindi energia, chiamata energia potenziale gravitazionale, perché nasce dall'attrazione gravitazionale della Terra. Si chiama energia potenziale perché è una forma di energia immagazzinata che può essere successivamente rilasciata e convertita in energia cinetica, o in altre forme. Il piano zero. Per calcolare il valore dell'energia potenziale della forza peso, occorre stabilire un piano di riferimento e determinare l'altezza h al quale il corpo si trova rispetto al piano di riferimento. Possiamo misurare h rispetto al suolo o a qualsiasi altro livello di riferimento, per esempio dal piano del tavolo, dal fondo di un parcheggio sotterraneo. Il livello zero può essere scelto in modo arbitrario. Formula. O uguale m per g per h. Dove. O è l'energia potenziale gravitazionale della forza peso, espressa in Joule. M è la massa del corpo misurata in chilogrammi. G è l'accelerazione di gravità, pari a 9,81 metri al secondo quadrato, valore medio. H è l'altezza a cui si trova l'oggetto, espressa in metri. Accelerazione di gravità. L'accelerazione di gravità dipende dalla distanza dal centro della Terra. Più siamo distanti dal centro, meno è intensa. La Terra non è una sfera perfetta, è più rigonfia all'equatore e schiacciata ai poli, geoede. Il raggio equatoriale è quindi maggiore di quello polare, di conseguenza all'equatore si registra un valore di g uguale a 9,81 metri al secondo quadrato mentre ai poli vale 9,83 metri al secondo quadrato. Il valore dell'accelerazione di gravità cresce progressivamente al crescere della latitudine. Il valore di g 9,81 metri al secondo quadrato da noi usato è frutto di una media. Esercizio 1. Un osciatore si trova a un'altezza di 100 metri rispetto al fondo valle. La massa dell'osciatore, compresa l'attrezzatura, è di 90 kg. Qual è l'energia potenziale dello sciatore, avendo scelto come livello di riferimento il fondo valle? Svolgimento. O uguale m per g per h uguale 90 kg per 9,81 metri al secondo quadrato per 100 metri. O uguale 88.290 Joule uguale 88,29 KJ. Esercizio 2. Un alpinista di massa 100 kg raggiunge un rifugio dopo una camminata di 700 metri di dislivello. Quale energia potenziale ha acquisito? Quanto vale l'energia potenziale dell'alpinista quando torna a livello 0? Svolgimento. O uguale m per g per h uguale 100 kg per 9,81 metri al secondo quadrato per 700 metri. U uguale 686.700 Joule uguale 686,7 KJ. Quando torna in pianura, l'altezza h è pari a 0 metri quindi U uguale 0 Joule. Ripassa la mappa del capitolo. 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 Ripassa la mappa del capitolo.